Allora, ti volevo dire che abbiamo chiamato una ditta di disinfestazione, abbiamo disinfestato tutto, abbiamo tolto l'odore di cane, i peli di cane, ogni forma di traccia di cane e quindi adesso è tutto pulito. Puoi uscire tranquillamente per fare lo strippi. Ma cosa dici? Ma senti... Senti che roba, c'è una puzza, c'è una puzza terribile di cane, ma quale disinfestazione. Ma giuro, abbiamo pulito tutto perché sapevamo che venivate voi. Ma che... ma certo che voi umani siete dei deficienti, perché noi gatti abbiamo... Un odorato sopraffino... Senti che roba, non sentite nulla. Certo, con tutte quelle schifezze che vi mangiate, non sentite odori, non sentite nulla. Ho capito, però dovete uscire adesso. No, 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 guardate qui fuori, no, che schifo. Non esco, non esco proprio. No, non esco. Non esco. Fatevene una ragione, non uscirò mai. No. Grazie.